Si è operato questa mattina la carotide Sdenek Zeman nella casa di cura Pierangeli a Pescara, intervento perfettamente riuscito, seppur molto complesso, condotto dal dottor Guarracini, dal dottor Salute e dalla dottoressa Dorazio. Si attendono nelle prossime ore notizie certe sui tempi di recupero del Boemo, che compirà 77 anni a maggio, ma sicuramente non saranno brevi, almeno secondo i medici. Per il momento alla guida della squadra resta il vice di Zeman, Giovanni Bucaro, con gli altri membri dello staff, in attesa che il club prenda decisioni su un possibile cambio in panchina nella parte finale del campionato.